Alberto, il titolo 48, vabbè, evoluzione degli APT attraverso la supply chain. Prego, grazie, ce l'avete fatta, è l'ultimo intervento, adesso passeremo le prossime nove ore a leggere il manuale Intel e poi andate a casa, ok? Scherzavo ovviamente, oggi parliamo di supply chain attacks che sono una delle forme di attacco di altro profilo più interessanti che abbiamo negli ultimi tempi e parliamo un attimo dello scenario geopolitico, quindi il talk è abbastanza light, non sarà tecnico, esaminiamo un attimo cosa succede a livello globale con questo tipo di attacchi e come sono stati fondamentalmente monopolizzati da un unico paese e come questi attacchi stanno avendo un successo incredibile ma non hanno un'altrettanta risonanza sul pubblico. Quindi li ritengo davvero una delle tipologie di attacco più interessanti. Non ho idea di come si traduca in italiano, comunque supply chain attacks. Allora, io sono quello lì, Alberto Pelliccione, sono amministratore delegato di React, se non ci conoscete fate un salto sul sito perché facciamo cose interessanti e basta, finire l'introduzione, passiamo alle cose serie. Dunque, immaginate di essere un traductor governativo, quindi un attore governativo, avete un problema, o avete un desiderio, come qualcuno, di compromettere milioni di dispositivi mantenendo un profilo di detection il più basso possibile. Ho problemi di batteria o cosa? Ho interferenza, chi è che mi sta giammando? Ok, dicevamo, volete infettare milioni di dispositivi mantenendo un profilo di detection il più basso possibile, questo significa principalmente anche non utilizzare exploit nella maniera più assoluta, per questo vi aiuta a rimanere, chiaramente, sotto traccia. Non esistono tante risposte, la tipologia è fondamentalmente una ed è quella dei supply chain attack. Perché? Perché hanno la capacità di minare quello che è il trust link, quindi il collegamento di fiducia che noi, come cliente, abbiamo verso i nostri fornitori. Ok, cambiamo verso il fornitore, che è qualcosa che implicitamente o esplicitamente, diamo per garantito, quindi questo fa parte di tutta la catena di aggiornamento del software, ogni volta che aggiorniamo le app, ogni volta che aggiorniamo il software. Quindi siamo molto abituati e non ci aspettiamo che un provider, un fornitore tipo Google, Apple o chiunque altro, Microsoft ci invii un update. Sì? È colpa di Maggi, vero? Ok, wow, pericolosissime queste cose. Ok, allora dicevamo, non vi aspettate che un fornitore vi fornisca un update che contenga del malware all'interno, per cui crediamo implicitamente in questo link, creiamo un collegamento abbastanza implicito. Adesso, questo trend di attacchi è assolutamente in crescita, ripeto, non ha una visibilità forte, ma è in crescita, perché sono efficaci, funzionano davvero bene, sono veramente difficili da identificare, vedremo un po' perché, e possono essere utilizzati sia per attacchi mirati che per attacchi di massa, quindi veramente ad ampio spettro, quindi diventano davvero interessanti. E ci sono tre opzioni principali, nel senso, perché dovremmo fare un supply chain attack? Ovviamente per ottenere i dati, ma in che modalità? Io ne ho identificate tre, fondamentalmente. La prima, sono i cosiddetti attacchi opportunistici di scala, quindi attacchiamo una massa, poi vediamo quello che peschiamo e ci rendiamo conto di cosa è sfiltrare. Oppure un altro tipo, un'altra opzione, che è quella di attacchi mirati di massa, che sembra una contraddizione in termini, lo è, volutamente, ma vedremo che in verità poi non lo è. E l'ultimo, che ho rubato come termine dall'intelligence, che è acquisizione di intelligence di quarta parte. Cosa significa? Significa che c'è, immaginate, un'agenzia che sta spiando su un target, e c'è un'agenzia che spia sull'agenzia che spia sul target. Questa è collection di quarta parte. Sono tutti quanti ordinati per complessità, quindi dal più semplice, veramente virgolettato, al più complesso. Quindi quello che faremo adesso è snocciolare queste tre opzioni, vedere come e quali tre attor lo stanno facendo, per quali fini, e ricostruiremo la figura di cosa sta succedendo a livello globale da questa tipologia di attaccanti per trovare qualcosa che, insomma, è stato abbastanza sorprendente. Quindi partiamo dal primo, quindi attacchi opportunistici, però su scala. Allora, nel corso del talk io introdurrò vari tradactor, ne parliamo di cinque tradactor principali, che alcuni di voi avranno sentito sicuramente, e parliamo di WinNTI. WinNTI è un tradactor famosissimo, perché tutt'oggi è attivo. Si chiama Umbrella, perché è un tradactor che probabilmente ha sotto altri tradactor, che si muove in maniera abbastanza interessante. La loro tipologia di attacco si basa sul phishing, quindi loro fanno email di phishing, profilano i loro target, inviano email di phishing abbastanza rudimentali, quindi non sono particolarmente sofisticati, e si muovono all'interno delle infrastrutture con un malware. Questa è una cosa che è comune a tutti quanti gli attori di cui parleremo oggi. E loro cosa prendono di mira? Loro essenzialmente prendono di mira i certificati digitali, quindi quelli che noi utilizziamo per certificare il software. E il loro focus si concentra essenzialmente su due tipi di obiettivi. Il primo obiettivo sono le aziende di gaming, il secondo obiettivo sono invece le aziende farmaceutiche. Vediamo tra un istante perché. Dunque, WinNTI viene identificato per la prima volta da Kaspersky nel 2010. All'inizio è un tradactor singolo, e poi diventano più tradactor. Ma al tempo, nel 2010, che cosa facevano? Bucavano tutte le aziende di gaming, rubavano i certificati digitali. Questo con un fine particolare, perché? Dopo ogni attacco, loro firmavano digitalmente il loro vector, che è una vector che si chiama WinNTI, e questa vector poi veniva riutilizzata una volta firmata per l'attacco successivo. Adesso, la seconda cosa che invece fanno, perché la fanno tutt'ora, è quella di rubare i codici sorgenti dei giochi. Perché? Perché dovrebbero rubare i codici sorgenti? Lo fanno per un paio di ragioni. La prima ragione è che li rivendono, e quindi consentono ad altre aziende di attivare dei server di gioco in regioni dove non sono disponibili. Quindi, tutto sommato, fanno un servizio sociale. Poi non so se i coder la vedono così, ma immaginate che siete in Vienna ma non potete giocare, non so, a World of Warcraft, lì vi dicono che è venire sul nostro server e potete giocare. Ma in verità lo fanno anche con un secondo fine. Loro analizzano i codici sorgenti, li utilizzano per trovare exploit, principalmente nella parte di generazione dell'ingame currency, quindi dei soldi virtuali. Questo perché? Perché poi si collegano sui server ufficiali, usano questi exploit o questi bug logici che riescono a trovare. Ottengono soldi o oggetti unici, leggendari, eccetera, che poi vendono, quindi fanno il cash out con i soldi reali. Quindi trasformano, hanno questa macchina che trasforma soldi virtuali in soldi reali, che è abbastanza un'idea interessante. Dunque, che cosa succede? Che nel 2011 proseguono le scorribande e loro bucano Valve e Gameforge. Dunque, Valve lo conosciamo tutti, giusto? Per Half-Life 3, corretto? Ok, e Gameforge anche lo conosciamo per la stessa ragione. Sono piattaforme di gaming. Che cosa succede? Che da Valve loro rubano tutto quanto, rubano 35 milioni di record. Gameforge non l'ha voluto dire, ma plausibilmente è successa la stessa cosa. E che cosa succede? Che nel frattempo, mentre continuano a bucare aziende, alla fine ne bucheranno 35 durante il corso dell'anno, quindi un tradactor group veramente efficace, compromettono 100.000 computer di gamer che utilizzavano un gioco, un gioco popolarissimo. Non so se è uscito il nome, ma immaginate, era popolare nel 2011, è popolare ancora oggi. 100.000 giocatori, più di 100.000 giocatori, si sono ritrovati a giocare a una versione infettata del gioco. Qualcuno di voi sa che gioco è? No? Non è World of Warcraft? Neanche? Ce ne manca uno. No, era Minecraft, ok? Questa cosa non credo sia mai uscita. Comunque loro compromettono Minecraft, e quindi infettano 100.000 giocatori. La cosa interessante, e questa l'ho ottenuta parlando proprio con il ricercatore che l'ha scoperto, è che sembrerebbe che loro non intendessero, nella maniera più assoluta, infettare i giocatori. Si sono ritrovati sulla macchina di uno degli sviluppatori, hanno fatto il drop del Trojan, questo Trojan è finito nella catena di upload, e quindi è stato inviato a tutti quanti i giocatori. E quindi, non so, ve l'immaginate voi la faccia di Win&Ti quando hanno fatto? Io me l'immagino, secondo me era questa. Allora, e giustamente loro fanno, beh... Loro fanno, ma guarda un po', magari se invece di attaccare le aziende, attacchiamo gli utenti, forse peschiamo più cose, diventa più facile la vita. Perché è importante questa parte? Perché per quanto ne sappiamo, questo attacco qui di Win&Ti nel 2011, è stato il primo attacco di massa su scala alla supply chain. Non ce ne sono altri, correggetemi se sbaglio, io non ne ho trovati altri, che sono stati precedenti a questo su stessa scala. Quindi, non sappiamo se effettivamente questa è la realtà dei fatti, perché una cosa che non ho detto è che tutti questi attacchi, praticamente sono stati scoperti per caso. Nessuno di questi attacchi è stato identificato con una ricerca, praticamente sono tutti quanti stati scoperti per caso. Per cui, magari è successo prima, ma non ce n'è testimonianza, se così è stato, questi ragazzi qui hanno fatto il primo supply chain attack di scala. Bravi. Che cosa succede? Passano un po' di anni, il 2014, qualcosa succede davvero, perché Win&Ti cambia completamente il focus. Io adesso non so perché la mia presentazione non ha tutte le animazioni che dovrebbe avere, ma comunque. Che cosa succede? Che loro fanno un refocus, e invece, oltre a concentrarsi alla parte di gaming, si fanno un refocus sulla parte farmaceutica. Bucano tutti quanti grandi, quindi compromettono Bayer, compromettono BSF, Henkel, Roche, utilizzando la low vector, quindi Win&Ti. Però, poi, riappaiono nel 2018-2019 e continuano a fare la stessa cosa sulle gaming companies. Quindi, compromettono tre aziende, queste qui sono due piattaforme di gioco se li fanno la stessa cosa nel 2011, quindi li ricompromettono, compromettono i giocatori, nel giro di poche ore, compromettono più di 100.000 persone nel sud-est asiatico, Vietnam, Thailandia, principalmente quella zona. E continuano a farlo utilizzando Win&Ti. Ma questo gruppo, ovviamente, si allinea su due fronti diversi. Un fronte puramente di cybercrime, un fronte, un fronte invece, diventa chiaramente governativo, perché non c'è nessun interesse nel farmaceutico, se non quello di acquisire proprietà intellettuali. Quindi, questo significa che qualcuno, uno Stato, nel 2014, assume questi ragazzi dopo che loro hanno fatto un attacco maggiore, quindi non ha avuto gran successo. Questo perché il crimine non paga, perché il cybercrime paga per tutti. Quindi ricordiamoci anche questa cosa, fondamentale. Quindi vengono assorbiti nella parte governativa e continuano la loro vita così, sono attivi tutt'oggi. E cominciamo a mettere su questo puzzle. Che cosa succede? C'è Win&Ti, che adesso avete capito perché si chiama Win&Ti Umbrella, o Group, Microsoft li chiama LED, ma comunque il traductor è lo stesso, fanno una catena interessante, da non dimenticare che nel 2016 loro compromettono TeamViewer. TeamViewer che non è nuovo a compromissioni, che questa non sarà nella prima o nell'ultima volta, un'altra è stata abbastanza di recente. Che cosa succede? Passiamo quindi adesso alla seconda opzione. Abbiamo visto quindi questi attacchi puramente opportunistici, passiamo invece agli attacchi mirati di massa. Che cosa significa? Questi sono attacchi che si muovono fondamentalmente in tre step differenti. La prima cosa è che vogliamo prendere di mira un pool che è il più ampio possibile. Quindi vogliamo prendere di mira, centinaia di milioni di persone, possibilmente milioni di persone. Perché vogliamo scoprire tra questi milioni di persone, se statisticamente, ce li avremo, ci sono delle personalità importanti, key figure, che poi vogliamo utilizzare per avere accesso ad un'infrastruttura sensibile. E quindi utilizzano queste vittime che vengono compromesse magari nell'ambiente di casa per poi entrare all'interno dell'agenzia o per entrare invece all'interno dell'azienda. Dipende se è un trattato al governativo oppure no. Quali sono le ragioni per cui bisognerebbe, perché un trattato dovrebbe prendere di mira milioni di persone per riuscire a prenderne poche? Le ragioni che ho identificato io sono potenzialmente queste. Cioè, un'idea è che il tradactor non ha abbastanza actionable intelligence, quindi abbastanza elementi per poter attaccare il target direttamente, oppure perché magari questo target veramente è molto bravo a livello di security, quindi è difficile prenderlo di mira, però magari in un ambiente casalingo dove possiamo prendere di mira parenti ed amici diventa più facile raggiungerlo. O semplicemente perché, invece di voler passare dalla porta davanti, si passa sul retro, perché vogliamo evitare di allertare l'entità che stiamo per attaccare. Quindi non vogliamo dargli segnali che stiamo per cominciare un attacco di alto profilo. Per questo rimangono poi tutti attacchi di altissimo profilo, sono tutti molto interessanti, adesso li vediamo. Ed introduciamo uno dei tradactor più interessanti degli ultimi anni, in assoluto. Uno dei miei preferiti si chiama Baryon Group, che voi conoscete, sicuramente, scoprirete tra un attimo perché. Baryon Group è un gruppo, sono molto competenti, loro che cosa fanno? Identificano le loro vittime, una volta che hanno identificato chi sono, cominciano a mappare le loro relazioni sociali, come si muovono sui social network, cosa scrivono, preferenze, eccetera. Creano un profilo, quindi c'è chiaramente un intelligence dietro, una parte analistica che li aiuta. Poi cominciano a stabilire un contatto con le vittime, un contatto effettivo, uno a uno. Quando guadagnano la fiducia del target, li attaccano e cominciano a muoversi. Come tutti, utilizzano i malware. Ma chi prendono di mira? Loro sono interessanti perché loro prendono di mira i fornitori di servizi. Loro hanno un focus particolare su dei fornitori di servizi, cioè chi produce software che poi viene distribuito alle masse oppure alle aziende. E perché? Beh, questo lo vediamo subito. Li conoscete perché sono quelli che dietro nel 2017 erano direttamente l'attacco di SeaCleaner, che quasi sicuramente, sono sicuro qualcuno di voi ricorda. Che cosa succede? Ricordate che c'è stata una compromissione poco tempo prima a TeamViewer. Loro trovano, in qualche modo, che non è stato mai identificato purtroppo, una workstation online, unattended, su cui c'era TeamViewer, di uno degli sviluppatori di SeaCleaner, quindi di P-Riform, che era l'azienda, che poi fu comprata da Avast, che produce SeaCleaner tutt'oggi. Identifiano questa macchina, adesso veramente purtroppo non sappiamo come, perché è interessante. Entrano all'interno della macchina, fanno il primo deployment di una vector in Visual Basic Script, quindi una vector in memory, molto leggera, fanno un po' di recon, capiscono che effettivamente è la persona che stavano cercando, e quindi fanno il deployment, ci fanno giù con le armi pesanti di Shetopad. Shetopad di nuovo viene scoperto da Kaspersky, fanno un'eccellente analisi, è una vector terribile, perché è estremamente complessa, molto ben fatta, costantemente aggiornata, una di quelle cose che non volete avere mai nell'infrastruttura e che fa praticamente tutto, cioè è veramente un'arma pesante da questo punto di vista. Ed è quel momento che l'attacco alla supply chain inizia, questo è soltanto l'inizio. Troviamo qualcuno e quindi incominciamo a deployare. Adesso. Come funziona un'operazione di compromissione alla supply chain fatta da Barium? Loro utilizzano praticamente sempre questo tipo di workflow. Immaginate di avere un'azienda di software o di lavorare per un'azienda di software. Tipicamente avrete degli sviluppatori che scrivono codice, lo pushano, fanno il push all'interno di una pipeline di continuous integration, quindi il software viene trasformato da codice sorgente per chi non fa queste cose in binario, in un pacchettino che noi possiamo cliccare ed installare. e al termine della fase di quality assurance, quindi dove il software viene testato, questo software viene trasmesso poi allo stato successivo che è dove viene firmato digitalmente. Quindi c'è un certificato digitale che viene applicato, che garantisce l'inalterabilità del software. A quel punto viene messo il software su un server di update, quindi viene deployato, su tutti quanti, viene inviato, scusate, su tutti quanti i clienti dell'azienda. Questo era il workflow di SeaCleaner. Abbastanza tradizionale, non c'è niente di strano. Tutto funzionerebbe a meraviglia se non che a un certo punto arriva Barium. Barium si mette all'interno dell'infrastruttura, prende il controllo della pipeline di sviluppo e di integrazione del codice e compromette il binario dopo essere stato generato. Quindi tra il momento in cui i sviluppatori inseriscono il codice e nel momento in cui esce il binario, loro lo compromettono, quindi lo alterano, aggiungono il vector. Quindi a quel punto il file che è stato creato nella pipeline è già compromesso, viene inviato al secondo stage che è quello di firma digitale, viene firmato, a quel punto è firmato effettivamente da P-Reform, quindi l'azienda che lo sta facendo ed è certificato. Viene portato sul server di update, viene inviato, tutti quanti i clienti di SeaCleaner a quel punto si trovano infettati e comincia una prima fase di sfiltration molto leggera, pochi dati, informazioni di contorno, MAC address della scheda di rete, nome utente, macchina, sistema operativo. Dove vengono inviati i dati? Dovete saperla questa cosa, chi fa Trattintel qui dentro? L'ho sentito? Sì, allora, in Cina. E questa è la prima volta che nomino la Cina, che diamo un nome a chi c'è dietro queste operazioni. Quindi, ci ritroviamo con una quantità incredibile di persone che incominciano a sfiltrare i propri dati verso la Cina. È interessante SeaCleaner perché SeaCleaner infetta alla fine prima di essere scoperto infetta 2 milioni e 270 mila persone che non sono esattamente pochi. Li infetta con un primo stage e qui la cosa diventa interessante, qui capite che l'attacco diventa di alto profilo. Questa vector ha una sola capacità che è quella di scaricare un payload aggiuntivo quindi un'altra vector ed attivarla. E questa cosa avviene ma avviene solo su 40 macchine quindi di 2 milioni di macchine loro ne vanno a pescare 40. Questo già vi dovrebbe far riflettere. Tra queste 40 ci sono tutte le grandi aziende c'è Akamai, Cisco, c'è Google, c'è Intel, eccetera, in particolare c'è Asus. Adesso geopolitica Asus si trova a Taiwan. Abbiamo scoperto che la Cina prendeva questi dati la Cina ha un certo interesse verso Taiwan. Asus è un produttore che esporta la maggior parte del software dell'ardo nel sud-est asiatico viene venduta esattamente da Asus. E guardate un po', si passa pochi mesi dopo e c'è un'altra operazione si chiama Shadowhammer questa volta dove che cosa succede? Barium dopo aver ottenuto un primo livello di accesso tramite qualcuno che faceva parte di Asus fa una mossa incredibile entra nell'infrastruttura di Asus e lo fa questa volta fortunatamente commettendo un errore perché come è stato scoperto questo attacco? Dunque succede che ad un certo punto i clienti di Asus anche qui ricevono un update questo update contiene un file di Asus firmato legittimo senza una descrizione e del 2015 però siamo nel 2018 e a questo punto una persona su Reddit genio massima stima fa ma perché mi è arrivato un update di Asus del 2015 senza firma? E grazie a lui noi ci prostiamo che questo attacco è stato identificato altrimenti forse non l'avrebbe visto mai nessuno questo attacco è eccezionale perché rimane silente quella Vector non fa assolutamente niente a meno che il vostro computer non sia uno dei 600 computer presi di mira da questa Vector e contiene uno specifico MAC address soltanto 600 loro arrivano ad infettare più di 100.000 macchine ma ne prendono di mira di un nuovo 600 l'altra volta 2.000.000 per 40 macchine adesso 100.000 per 600 ad oggi informazioni che abbiamo diciamo interne nessuna di queste 600 vittime è stata mai identificata e si pensa forse ha ragione veduta che si tratti di altri ufficiali di una determinata parte del mondo che questo potete capirlo anche da voi e quindi cominciamo a linkare gli attacchi quindi vediamo che Winanti tutto sommato non operava da solo Winanti fa parecchio sharing con Barium perché c'è Winanti la Vector che viene passata davanti a te si parlano ci sono delle cose in comune eccezione fatta per Shadowpad che sembra essere utilizzata esclusivamente da Barium quindi Barium compromette Sigliner mette un piede in Asus riutilizza questo questo piede in Asus per poi lanciare effettivamente pochi mesi dopo un vero attacco nel frattempo loro compromettono anche un'altra azienda NetSarang è un attacco che magari voi non avete sentito ma questa è un'azienda che sviluppa un software di server management per le banche che praticamente viene utilizzato da centina e centinaia di banche un attacco che ha degli effetti incredibili ma che passava molto sotto traccia e quindi ci muoviamo avanti adesso passiamo all'ultima ragione cioè la collection di intelligence da quarta parte perché perché questi è la tipologia di attacco tra tutte probabilmente più sofisticata in verità Barium è molto sofisticato c'è stata un'istanza in cui Barium ha addirittura modificato il linker della suite di compilazione di uno degli sviluppatori per vectorare per mettere una vector all'interno dei binari quindi sono comunque sofisticati ma questi attacchi sono una categoria diversa a cosa servono? questi attacchi servono principalmente per penetrare i così di hard target cioè i target 2 immaginate agenzie governative di difesa quindi loro che sono specializzati in queste cose e che quindi hanno dei buoni livelli di difesa e sono molto più difficili da identificare di quelli che abbiamo visto fino adesso ed hanno un fattore moltiplicativo importante perché questa volta non andiamo ad attaccare le masse questa volta andiamo ad attaccare i servizi che gestiscono la sicurezza o le reti di agenzie quindi di entità sensibili e l'effetto moltiplicativo è potente perché una volta che voi bucate un service provider che offre servizi gestiti di qualunque cosa prenderete allo stesso tempo tutti quanti i clienti di questo MSP quindi immaginate di prenderne uno specifico che ha come clienti quelli che interessano a voi e immaginate che il pastrocchio diventa facile ed introduciamo un tradactor che avete sentito sicuramente di recente apt10 al quale viene imputato un po' tutto però ha ragion veduta che è uno dei tradactor più sofisticati cinesi che oggi conosciamo dunque loro cosa fanno? si muovono per spear phishing fino ad oggi non avete sentito parlare di nessun exploit avete sentito parlare però di qualche milione di device infetti questo vi fa capire che cose triviali come il phishing funzionano talmente bene che tante volte non c'è bisogno di utilizzare Zero Day loro fanno campagne abbastanza sofisticate sono molto bravi hanno un grandissimo successo si muovono con dei malware ma chi prendono di mira? prendono in mira i fornitori di servizi ma in particolare uno quelli nella difesa e nell'hore space e c'è una ragione per questo i movimenti di apt10 sono entro certi limiti prevedibili perché apt10 segue il China's FYP sarebbe il Favia's Plan è un piano che la Cina pubblica ogni 5 anni dove loro dicono cosa faranno negli 5 anni successivi ed è un ottimo predittore dell'attività di questi 3 group perché loro si concentrano precisamente su quei settori che la Cina identifica come strategici per i prossimi 5 anni si muovono in maniera interessante abbiamo già detto che attaccano gli MSP però come fanno? loro mantengono un piede negli accessi ad alto livello quindi entro in un'infrastruttura ad alto livello mantengono accesso però poi mantengono anche un accesso nella parte non privilegiata questo perché? perché in questo modo loro possono ritornare nell'infrastruttura nel caso in cui la parte ad alto livello venisse identificata e funziona loro sono sempre praticamente sempre undetected loro rimangono all'interno dell'infrastruttura per anni e sfiltano qualunque cosa e sono bravissimi nel farlo ci arriviamo un attimo perché? e loro sono gli artifici dell'operazione che sarà chiamata cloud hopper che come funziona? un workflow che è molto interessante lo identificano un service provider di sicurezza che serve un certo tipo di clienti che loro vogliono penetrare in quel momento quindi immaginate un cliente di difesa entrano all'interno dell'infrastruttura una volta che sono nell'infrastruttura dell'MSP quindi del gestore loro hanno già un canale privilegiato verso tutti quanti i loro clienti perché controllano hanno lo stesso accesso che all'MSP quindi si muovono all'interno dell'infrastruttura dell'MSP da quel momento cosa fanno? riutilizzando le credenziali che hanno preso durante la fase di attacco dell'MSP e facendo harvesting di altre credenziali poi all'interno dell'infrastruttura comincia a fare movimento laterale quindi cercano le macchine dove ci sono i dati fanno quello che si chiama staging quindi prendono tutti quanti i dati li mettono da qualche parte ma non li sfiltrano direttamente qui ovviamente è furba loro li portano indietro utilizzando lo stesso canale dell'MSP quindi lo riportano nella casa dell'MSP perché quello è un canale a basso monitoraggio molto probabilmente o anzi sicuramente perché funziona per cui diciamo che indirettamente è un'informazione proxy che ci dice che questa soluzione è vera quindi loro lo sfiltrano verso l'MSP una volta che tutto il blocco dati all'interno dell'MSP poi lo portano all'interno del loro server e ci potete scommettere che la difesa ovviamente non si accorgerà plausibilmente perché è un canale dove si aspettano del traffico ma l'MSP probabilmente ha delle difese molto più basse rispetto a quelle di un'agenzia governativa quindi tante volte spesso non se ne accorge e perché lo avete sentito a PT10 vi dicevo che è quello a cui viene un po' imputato praticamente ogni tipo di operazione ad alto livello quando si tratta di supply chain defense a bendonde perché pochi giorni fa è stato compromesso Airbus o almeno sono stati compromessi ma l'hanno annunciato pochi giorni fa e da dove sono passati gli attaccanti gli attaccanti sono passati non da Airbus direttamente ma dai provider dai supplier sono passati da Rolls Royce che fanno i motori da Xplay o a System che è la stessa azienda che fa le avioniche e da due altri provider che non sono stati identificati e che cosa andavano cercando in particolare loro andavano cercando i processi di certificazione degli aeromobili in particolare i motori della 400M che è un aero dell'Airbus a uso militare e dell'Airbus 350 adesso uno fa ma perché loro dovrebbero andare a rubare queste cose cosa gli interessa facciamo due minuti di digressione di aeronautica civile però è divertente prometto allora enter Comac chi è Comac Comac è un'azienda che fa il manufacturing di aircraft in China quindi loro costruiscono aereo o almeno ci provano perché è un'azienda nuova è stata costituita veramente pochi anni fa loro hanno come obiettivo e questo faceva parte del Favia's Plan quello di costruire quell'aero lì l'AirJ21 perché la Cina in media compra un Boeing ogni 21 ore questo vi dà un'idea di quanto sia grande il loro mercato e comprano quasi lo stesso numero di Airbus ogni giorno per cui immaginate che domani Trump o chiunque decida di mettere dei tazzi di non vendere più gli aerei alla Cina la Cina dopo l'oggi al domani si ritrova a non avere aerei per far funzionare tutta la propria economia quindi hanno deciso all'inizio del 2000 di diventare indipendenti dice ok ce lo facciamo noi un aeroplano il problema è che fare aeroplani è difficile non è una cosa estremamente complicata quindi cominciano lo sviluppo di questo aereo nel 2002 però la prima volta che effettivamente questo aereo vola nel 2016 non è sorprendente ripeto fare aeroplani è difficile e questo aereo nasce con una serie di problemi incredibili hanno problemi all'avionica mi ricorda qualcuno hanno problemi al wiring quindi ai collegamenti hanno problemi al supporto all'area dei materiali e hanno problemi a ottenere la certificazione dell'aeromobile non state niente similitudine ok quindi decidono di fare una cosa dicono ah santo che ci siamo prendiamoci i progetti qualcun altro che è anche furba come idea perché così tagliano tutti quanti i tempi di ricerca e sviluppo e c'è una ragione specifica che è interessante la Cina sta sviluppando il 929 il CR 929 che non è un clone 1 a 1 dell'Airbus 350 del quale hanno preso già tutti quanti i documenti di certificazione ma sono due aerei che sono estremamente simili ok condividono molte similità non al 100% ripeto ma sufficienti per renderlo interessante quindi loro prendono di mira un aereo che è già stato certificato che già vola che già conoscono che ha risolto tutti i problemi che loro hanno per riuscire poi a tagliare i tempi di sviluppo perché sono tremendamente in ritardo e con la situazione con gli Stati Uniti questa faccenda si fa pressante quindi parte una serie di attacchi ripeto non sono stati attribuiti ufficialmente ad APT10 è difficile farlo ma è molto probabile che dietro effettivamente ci siano loro nel senso e c'è una ragione strategica estremamente importante quindi loro si muovono a questo livello fine parentesi aeronautica civile allora quindi cominciamo a chiudere un attimo le fila di questa faccenda perché è una mappa complessa abbiamo visto William TI di nuovo abbiamo visto Barium con le sue operazioni abbiamo messo nella nostra immagine APT10 che si collega ad un altro APT di cui non parliamo perché non abbiamo tempo che si chiama APT9 che è specializzato essenzialmente in fare attacchi verso la Thailandia quindi un'area geografica per il momento non ci interessa quindi si sta diventando complessa ma tenetelo d'occhio perché sono molto interconnessi ok questo è quello che deve saltare all'occhio quanto sono interconnessi questi 3-actors tra di loro e quindi ci spostiamo verso l'ultimo 3-actors della giornata perché questi attacchi non sono cresciuti in sofisticazione oltre i livelli a cui si trovavano perché già funzionano benissimo per cui perché cambiare e rompere qualcosa che funziona già bene eppure un 3-actors si è adoperato per cambiare un attimino le strategie e migliorare le operazioni questo 3-actors si chiama IceFog non conosciamo quasi niente è un 3-actors misterioso che è apparso 10 anni fa è sparito poi si è rifatto vivo negli ultimi 2-3 anni che ha come target principale i contractor del settore defense dunque IceFog c'è veramente parecchia nebbia intorno a questo 3-actors perché non si sa se sia parte di APT15 9 roaming tiger non si sa se è solo una backdoor che viene divisa da questi gruppi o un gruppo minore che condivide con altri non si sono abbastanza elementi però si sa che loro targettano precisamente questo tipo di settore quello che è sorprendente è che non sono conosciuti come un 3-actors sofisticato loro utilizzavano fino a poco tempo fa una backdoorina in Java che funzionava due volte si 10 però poi si sono diventati più bravi insomma nel corso degli anni poi quando si sono riattivati sono tornati ad operare hanno migliorato un pochettino i tool e sono quelli che quest'anno ci hanno sorpreso di più perché che cosa hanno fatto sono stati i primi che si sono azzardati ad entrare nel settore degli attacchi di altro profilo filess allora qui abbiamo fatto una ricostruzione di uno degli attacchi di IceFog che vi spiego praticamente loro mandano un documento di Word che contiene un contiene un exploit quindi voi aprite il documento il documento però non attiva un malware quello sarebbe facile poi da identificare fa un'altra cosa se voi guardate il processo 5472 questo documento avvia un processo firmato da Semantec un processo super trusted qualcosa che tipicamente l'antivirus o l'idiaro o chi che sia probabilmente non flaggerà perché non è effettivamente pericoloso però perché dovresti droppare un componente di un antivirus c'è una ragione perché questo componente in particolare ma loro ne utilizzano vari questo è giusto uno degli attacchi soffre di una vulnerabilità che si chiama DLL hijacking quindi in pratica utilizzano un componente trastrato scusate non fidato per caricare in memoria una vector che può essere memoria quindi hanno un impatto sulla macchina molto basso voi riavviate la macchina ritrovate il file di Semantec non trovate la vector però quindi si cominciano a fare smart diventano intelligenti e stanno esplorando stanno muovendo i primi passi nella parte di attacchi files o in memory comunque quindi prima volta quindi aggiungiamo a questa foto questo puzzle aggiungiamo ice fog perché si sono meritati il loro posticino e completiamo finalmente il puzzle il puzzle è complesso però la parte interessante è questa che ci sono gli overlapped di infrastruttura tra questi IPT sappiamo che si parlano ci sono in alcune varie situazioni riuso di codice è complesso ci sono veramente tante le parti in movimento e ice fog si concentra principalmente con i suoi attacchi in Giappone adesso il mio messaggio qual è? non tanto che si parla nei threat actor tra di loro perché capita cioè è una cosa abbastanza comune spesso in Cina però è la prima volta che noi vediamo uno stato avere così tanti threat actor che lavorano verso lo stesso fine cioè tutti quanti specializzati negli attacchi alla supply chain tutti quanti estremamente efficaci quindi sono tutti quanti molto bravi ma tutti quanti che fanno parte di un singolo stato conosciamo altri threat actor che sono dedicati alla supply chain cioè Telebots che voi vi ricordate forse per gli attacchi a Notpezia quello era è un threat actor russo specializzato in supply chain questi qui sono cinque sono specializzati esclusivamente in questo nessuno stato ad oggi una macchina di attacco alla supply chain così imponente come la Cina quindi questo è stato per me sorprendente perché quando siamo riusciti a collegarli tutti ci siamo resi conto che c'è un movimento dietro c'è una strategia dietro che è molto ampia e quindi complimenti alla Cina state attenti perché questi sono i threat con i quali dovremo avere a che fare da oggi per i prossimi anni concludo un po' in anticipo con un paio di osservazioni come si identificano questi attacchi allora avete capito che sono estremamente efficaci per trovare target sono estremamente efficaci per entrare in strutture che sono altamente difese quindi strutture di alto profilo in verità i primi attacchi che abbiamo visto eccezioni fatte per APT10 possono essere identificati in maniera relativamente semplice perché non è semplice ma è possibile semplicemente con un po' di network anomaly detection perché loro che cosa fanno? e sfiltrano i dati su dei segmenti di rete su degli IP dei server che sono completamente sconosciuti per cui se voi seguite il software che il software è fidato e vedete che sta comunicando con nuove entità che non fanno parte dell'azienda che dovrebbero andare e già sapete che c'è qualcosa che non va quindi c'è un modo per farlo è tedioso ma è possibile il fatto che la probabilità di questi attacchi è talmente bassa che mai nessuno se ne cura finché non succede qualcosa il problema diventa quando poi c'è un tradatto come APT10 lì il network anomaly detection non serve a niente perché tanto vedete i vostri dati finire verso il provider quello che diventa interessante a quel punto diventa o meglio diventa necessario fare profiling comportamentale lo dico perché ci stiamo sbattendo il muso da tre anni su questo problema quindi bisogna creare in breve perché ci vorrebbe un altro a Kimbo per spiegare poi la parte detection in breve serve creare dei profili dei profili di comportamentali e di impatto di tutti quanti i software trusted che voi avete all'interno dell'infrastruttura che fanno parte degli stessi pacchetti calcolare poi qual è l'impatto sul perimodo di sicurezza cioè cosa fanno a livello di security questi applicativi identificare quando gli applicativi vengono aggiornati e vedere se il nuovo profilo diverge e ha un impatto maggiore sul vostro profilo di sicurezza non è triviale di nuovo si fa ma hanno alzato la barra della detection notevolmente sono stati davvero bravi questo è tutto e adesso vi grazie bravissimo anche per aver recuperato dieci minuti grazie mille due domande sì allora come sono riusciti praticamente a compromettere il continuous integration di Ccleaner modificando sorgenti o patchando il binario rimane traccia su repository git svn dell'attacco no dunque loro come si muovono loro si muovono compromettendo il binario quindi hanno fatto un binary patching sui binari compilati e hanno introdotto poi la parte di back hanno introdotto dei jump hanno introdotto un payload che era un payload malevolo all'interno del binario non hanno fatto al momento intrusione di a meno che si sape non sembra che si sia stata fatta mai intrusione sulla parte git quindi sulla parte sorgente ma tenete a mente che loro sono lo stesso tradactor che ha backdorato i linker di alcuni degli sviluppatori non nel caso di ccleaner questo è stato in un'altra operazione ma hanno messo mani alla suite di sviluppo quindi quando lo sviluppatore compilava quando in verità il continuous integration compilava automaticamente emetteva la backdor all'interno del binario quindi la risposta è non hanno toccato i sorgenti direttamente sono passati allo stage successivo che secondo me è migliore da un certo punto di vista come approccio ed hanno compromesso il binario e poi l'hanno rifirmato la seconda più semplice ora ma più difficile dopo cioè quando ci scrivi un libro di storie come queste c'è la Frediani che lo fa per cui chiedete a lei direttamente è più brava di me grazie grazie mille grazie Alberto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti